Ma se costruissi il mio lecca-lecca ripieno di Takis? Ah sì, io ci provo! Quanto è soddisfacente! Guardate che contrasto di colori! Ok, direi che così è abbastanza. Chiudiamo. No! Devo tenere fuori il bastoncino, ok. Cioè, non so se mi spiego. Ho fatto il mio lecca-lecca ripieno di Takis. È vero! Bene, ora lo assaggiamo. Piccantino, ma è buonissimo. Mmm!